Principessa di Hyrule, non sussiste alcuna cagione per ricusare la vostra petizione. Pare che questi Iga che vogliono risuscitare la calamità Ganon abbiano messo gli occhi anche sul nostro tesoro sacro. Sarò lieta di aiutarvi a sconfiggere la calamità. Grande matriarca, Urbosa, a nome del re di Hyrule, io vi ringrazio. Devo ammettere di non averti mai visto così seria, Urbosa. Davvero? Io invece ti ho già vista così ormai dieci anni fa. Non ridevi mai, principessina. A proposito, era da un po' che volevo chiedertelo, ma perché certe volte mi chiami principessina? Ehi! Voi due! Non mi piacciono i traditori, soprattutto se attaccano alle spalle. Fatevi sotto! Attenta! Oggi vi risparmio solo per rispetto alla principessa. Sparite! La mia dolce principessina. Eh? Quando eri ancora una bambina piccola, la mia cara amica ti chiamava così, sfoggiando il sorriso più bello di Hyrule. La mia mamma. Sono passati già dieci anni. Avevi appena perso tua madre, eppure vedevo che ce la mettevi tutta per tenere la testa alta e dare l'esempio al tuo popolo. E così ho cominciato anch'io a chiamarti principessina. E così ho cominciato. Alla prossima! Grazie a tutti.